Siamo con Soranna Colucci, madre generale delle suore di San Benedetto Giuseppe Labre, ordine fondato da Don Ambrogio Grittani. Come sta vivendo la comunità a questo momento della venerabilità di Don Ambrogio? Lo stiamo vivendo con tantissima emozione perché è un dono grande che non riguarda più solamente l'istituto e l'opera, ma che va oltre, raggiunge un po' tutta la Chiesa. E questa emozione ci viene anche dal fatto che ci siamo molto preparati a questo momento. Abbiamo vissuto un itinerario in preparazione alla causa e a questa attesissima firma del Santo Padre sul decreto. Un cammino che è stato di approfondimento degli scritti di Don Ambrogio, di preghiera, con un gruppo costituito che abbiamo così denominato il Movimento degli Amici di Don Ambrogio Grittani, ci siamo ritrovati mensilmente per studiare proprio gli scritti, per pregare questi scritti, capire la sua spiritualità e entrare dentro la sua anima e dentro i suoi progetti. Soranna, se dovessi sintetizzare in una definizione Don Ambrogio, come lo definiresti? Per me Don Ambrogio è una bellissima persona. Io sono entrata in dialogo con lui e sento che è una persona di cui non posso fare a meno, che è maestro di vita, è un lago della bilancia, è ciò che dà significato alle cose che faccio. Scusami, e tu personalmente come hai incontrato questa vocazione, questo carisma? Il Signore mi ha condotto alla provvidenza, non l'ho scelto perché lo conoscevo, quindi attraverso un sacerdote conoscente che faceva pastorale qui all'Opera, ho conosciuto Don Ambrogio. Però particolarmente l'ho scoperto quando ho dovuto fare la mia tesi presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose. In quegli anni uscirono gli scritti eucaristici inediti di Don Ambrogio, che ho studiato, approfondito, ho mangiato con tantissima passione, perché l'avevo conosciuto come l'uomo dei poveri e l'uomo del servizio, ma mi mancava questa dimensione di lui che è quella che ha dato vita a tutto il resto, cioè la dimensione eucaristica. Don Ambrogio ha fatto dell'eucaristia tutta la sua esistenza e leggiamo che ha trascorso anche le notti in adorazione, che durante la celebrazione eucaristica lui arrivava anche a piangersi, a commuoversi profondamente e quindi ha chiesto alle oblati, a tutti i seguaci, gli collaboratori, di vivere una vita eucaristica a servizio dei poveri. La vita di Cristo è incontrata nell'eucaristia e nei poveri. Sembra quasi anticipare quello che poi anche Don Tonino Bello ha fatto e del resto è stato proprio Don Tonino ad avviare il processo di canonizzazione e noi domenica celebriamo anche i suoi 83 anni. Oggi come continua l'opera di Don Grittani? Continua nella misura in cui desidera portare quella dimensione di carità eucaristica nel vissuto quotidiano e concreto del servizio agli altri. Noi abbiamo alcune case che ospitano anziani, allora noi abbiamo voluto dare famiglia a questi anziani, sollevando un po' la difficoltà delle famiglie lavoratrici. Crediamo di star vicino alla solitudine che l'anziano vive, perché l'anziano alla sua età sente, a volte invece di raccogliere il frutto di un'esistenza vissuta e donata, si ritrova solo. Quindi noi cerchiamo di stare vicino a questa solitudine. Abbiamo anche le scuole materne, perché Don Ambrogio diceva che la povertà, diceva a suo tempo, la povertà deve essere prevenuta fin dall'infanzia attraverso l'educazione. Quindi gli anziani, c'è un'opera a Molfetta e a Terlizia? E anche a Maruggio. Hai anche a Maruggio? Sono tre case in cui ci dedichiamo agli anziani. Invece la scuola materna ne abbiamo una a Molfetta, quindi riusciamo ad avere la prima infanzia e la terza età che si sposano, si incontrano. Poi siamo anche oltre i confini dell'Italia. Sì, abbiamo una missione in Albania da oltre 20 anni, che abbiamo avviato quando ancora Don Tonino viveva e lui l'ha promossa, l'ha voluta, ci ha incoraggiate. Lì il servizio è prevalentemente educativo. E da pochi mesi siamo sbarcati in Africa, in Nigeria, con il progetto UBACALA. Sì, è un paio di anni che siamo noi presenti in Nigeria, perché intendiamo costruire un piccolo ambulatorio di maternità e anche di pediatria per sollevare la vita che nasce e accompagnare la vita che cresce, perché poi ci sarà anche una piccola scuola materna. Quante sono le sue ore leoblate oggi, più o meno? Sì, noi non siamo tante, siamo una ventina e però abbiamo sei case che con sacrificio, ma con tanta passione e tanto amore riusciamo a portare avanti, perché siamo, io credo, innamorate di Don Ambrogio e la forza di andare avanti, di portare avanti questi luoghi di servizio e la nostra missione la tingiamo proprio da lui. E dopo la venerabilità per la beatificazione ci vuole il miracolo, c'è sentore di segni di particolari oppure bisogna pregare molto ancora? Bisogna comunque pregare molto, pregare, anche il Cardinale quando siamo andati in visita ci ha detto questo, conoscetelo e fatelo conoscere, pregatelo e fate pregare. Però, insomma, qualche piccolo segnale ce l'abbiamo e lo stiamo valutando. Non dimentichiamo che Don Ambrogio ha collaborato con Lucio Vita nei suoi anni di presenza a Molfetta e noi questo piccolo contributo di riflessione attraverso il numero speciale, ma anche altri articoli e servizi cerchiamo di darlo per far conoscere questo grande carisma. Tanti auguri! Grazie!